Ok, due parole sull'istruzione all'arte. Allora, nella nostra cultura fortemente tecnologizzata l'arte sembra essere una cosa secondaria. In realtà la formazione all'arte è ciò che permette di elaborare, di sviluppare i processi creativi e quindi è un momento fondamentale della formazione dei giovani. Diciamo che non è pensabile lo sviluppo della scienza senza lo sviluppo di una creatività. Quindi questo è un tassello fondante, la formazione dell'individuo ed è chiaro che poi diventa rilevante anche nel processo più professionalizzante cioè di chi poi andrà da grande a lavorare nel mercato dell'arte. Ritengo che sia un momento molto molto rilevante. Grazie mille.